ma scusi ma scusi ma stessi quando la casa così me lo dice ma stiamo a te ma è il quarto giorno ma è il quarto giorno è il quarto era soffio si dici che culo c'è una gente diceci con cui dobbiamo andare a prendere donio guarda il monitor guarda il monitor guarda il monitor Grazie a tutti. Minario 1, polvere, esposto. Minario 1, monotone, sono esposti. Legalmente potete agire così. Legalmente sto cazzo, legalmente. È anni che ci fottete legalmente. E questo è un problema di sicurezza. È un problema di sicurezza, è un problema di sicurezza. È un problema di sicurezza, è un problema di sicurezza. E i treni, in Cerencia Rossa, in Cerencia Rossa partono. Siamo in visualità. In Cerencia Rossa partono. Ma io insomma la voglio vedere. Se devo fermare non partono.